Io vesto Aeroport con quel ciccionazzo che cacca la vinca, sai quello là? No! E lui dice che fa la crana, no? Che dice che tutto quello che fa la crana. La cosa che mi stupisce è che lei veda Aeroport, lei guarda Aeroport. Ma perché purtroppo mi hanno cambiato le frequenze e vedo solo Aeroport. Io prima per informarvi guardavo sempre programmi dove ci sono tante situazioni divertenti, dove c'è tanta bella allegria, la pupa e il secchione. Guardavo sempre programmi dove c'è tanta materia prima. Sì, va bene, andiamo avanti. C'è tanta materia prima. Andiamo avanti, sì, andiamo avanti. Da quello che ho capito da Aeroport, appunto, io credo che a Putin non è invata l'Abruzzo. Ma ci mancherebbe, certo. Ma no, perché sono solo pomodori e pecare.